Musica Proprio alla luce di questo aspetto, di questo ruolo della fondazione Valore Italia, il Ministero dello Sviluppo Economico ha affidato questo programma di incentivi per il design alla fondazione proprio perché si vuole riconoscere nel design uno strumento privilegiato di innovazione per le imprese, quindi focalizzare l'attenzione su questo aspetto in particolare. Infatti di che cosa tratta questo programma? Il programma è rivolto all'obiettivo della valorizzazione economica dei disegni e modelli industriali, quindi parliamo dei titoli di proprietà industriale, quindi tutela della proprietà industriale e sua successiva valorizzazione. La nostra presentazione parte dalla descrizione precisa di che cos'è un disegno e un modello industriale, perché molte volte le imprese, almeno in quest'ultimo periodo in cui si è diffusa l'informazione di questo programma e quindi molte imprese si sono avvicinate a noi per chiederci informazioni, ma in realtà per molti non era ancora chiaro che cosa si intendesse per disegno e modello industriale, per cui come prima cosa anche nelle domande frequenti che abbiamo indicato sul sito, sul nostro sito che poi vedrete alla fine è www.incentividesign.it diamo inizialmente una descrizione precisa che è quella presa dal codice della proprietà industriale di che cos'è un disegno o un modello industriale ed è quella che vedete qui in questo momento, presa proprio dall'articolo 31 del decreto legislativo numero 30 del codice della proprietà industriale è questo, possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli industriali l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte, quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale, ovvero dei materiali del prodotto stesso, ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi e abbiano carattere individuale, quindi parliamo essenzialmente della forma, di come ci appare un prodotto o una parte di un prodotto. Allora, anche il programma Disegni Più, esattamente come il programma Brevetti Più, è articolato in due linee di intervento che vengono chiamate misura A e misura B. La misura A consiste in premi per il deposito di domande di registrazione di modelli e disegni industriali, mentre la misura B consiste in incentivi per la valorizzazione economica dei disegni e modelli industriali. Quindi facciamo bene attenzione fin dall'inizio, perché qui si è equivocato spesso, è la valorizzazione economica dei titoli di proprietà industriale, non dei prodotti, perché qui parliamo sempre di tutela e valorizzazione economica dei titoli. Quindi questo è fondamentale per capire nel dettaglio tutto quanto il programma. Per quanto riguarda i premi, si parla di deposito nazionale, comunitario e internazionale. Per internazionale si intende i paesi al di fuori dell'Unione Europea. Naturalmente un'altra cosa importante da chiarire subito è questa. Si parla di premi per il deposito di domande di registrazione. Che cosa significa? Che noi non chiederemo poi all'impresa di dimostrare l'avvenuta già registrazione, perché come molti di voi sapranno, se hanno già depositato dei disegni e modelli, la registrazione richiede dei tempi più lunghi, mentre quello che noi chiederemo è il documento di avvenuto deposito della domanda di registrazione. Quindi non ci si spaventi davanti a questa cosa, perché sappiamo bene come funziona. Quindi queste sono le due misure. Entriamo nel merito della misura dei premi. Quindi perché andiamo a premiare? Naturalmente un dettaglio fondamentale per poter chiedere il premio è aver depositato un disegno o un modello industriale singolo o multiplo a partire dal 1 gennaio 2011. Quindi chi a partire dal 1 gennaio ha effettuato il deposito di un nuovo disegno o modello industriale può fare richiesta di premio. Un'altra informazione sui premi è la seguente. C'è cumulabilità di premi. Allora come vedrete più avanti vi illustrerò, ci sono diversi premi. Ad esempio c'è il premio per il deposito in Italia, il premio per il deposito in Unione Europea e c'è la cumulabilità di questi. Quindi chi ha depositato in Italia, in Unione Europea e all'estero può chiedere il premio per queste tre aree. Fino a quanto? Allora il totale massimo raggiungibile per il premio è 27 mila euro. Però un'impresa può fare domanda di premio fino a tre diversi modelli o disegni. Che cosa significa tre diversi? Che devono essere appartenenti a tre diverse classi di Locarno. Qui abbiamo uno schema delle classi di Locarno, non entriamo nel merito, tanto per informare su questa classificazione che è la classificazione internazionale dei modelli disegni industriali e quindi non entriamo nel merito. E vediamo invece il dettaglio, cioè quali sono i premi che si possono chiedere. Allora se si è effettuato un deposito nazionale il premio che si può richiedere corrisponde a mille euro. Quindi è un premio, io ho depositato. Tra l'altro naturalmente questa linea di incentivo è per i depositi a partire dal primo gennaio 2011, ma naturalmente se un'impresa deposita domani mattina un disegno modello ha il tempo medio stimato di ottenere il documento di avvenuto deposito di domanda di registrazione, che è all'incirca 10-15 giorni, non appena ha il suo documento può fare domanda di premio, naturalmente se il programma dovesse andare benissimo e risauriremo tutti i fondi presto, però insomma non sarà sicuramente così, sarà una misura che andrà incontro a molte imprese, per cui chi ce l'ha ancora nel cassetto, ce l'ha lì pronto, si può affrettare a fare questa cosa e ci può richiedere il premio. Quindi ricapitoliamo, deposito nazionale mille euro, deposito in Unione Europea anche questo mille euro. Qui chiarisco immediatamente una cosa, molte imprese mi hanno chiesto, ma se io ho effettuato il deposito comunitario e c'è un premio per il deposito nazionale di 1000 euro, posso con il mio documento di deposito comunitario avere 2000 euro? La risposta è no, perché se un'impresa ha prima depositato in Italia, ha il suo documento di deposito, se successivamente ha depositato anche in Unione Europea, avrà un altro documento, quindi ha sostenuto due volte le spese, giusto? Quindi se ci presenta entrambi i documenti di avvenuto deposito avrà i 2000 euro, altrimenti avrà il premio di 1000 euro in Unione Europea, perché questa domanda? Perché in Unione Europea è compresa l'Italia. Poi c'è il deposito internazionale, quindi in paesi al di fuori dell'Unione Europea. Allora, se il deposito è stato effettuato in un solo paese extra Unione Europea, il premio è di 1500 euro. Se invece si è effettuato il deposito da 2 a 5 paesi extra Unione Europea, il premio è di 3000 euro, per oltre 5 paesi il premio è di 4000 euro.